Musica Vabbè ho capito Perché? Che vuoi fa? Ehm, mi ammazzo, no? Eh, cosa vuoi che faccia? Mi ammazzo Guarda che c'è anche il cucchiaino Ed ecco, si è più buono E' buono Un'altra visione E tanto che aspettavo un'occasione così Beccami, sarò il tuo cremino Sarò il tuo motarello Sarò la tua coppa del nonno No, cos'è? Non le piace la coppa del nonno? No Però lo preferisco al salto Banzai! Altri marziali? Ho visto sette volte Karate Kid Non ti preoccupare Per questo affare ingoierei anche lo squalo 1, 2, 3 E anche la piovra 4 se la fanno Tu non puoi uscire dalla mia vita Io non voglio che tu riesca dalla mia vita E possibilmente non vorrei uscire neanche dalla mia Venga qui lei Va bene Ho messo le mutate da combattimento No, no Aurora Meglio lasciar perdere E' un segno del destino Quando gonfia il ditone La disgrazia è sul portone Quanto è? 125.000 Dolore fortissimo al braccio È troppo caro No, no E' stato come un crampo improvviso Una Kindom con don't my busan fly Dolore Dolore fortissimo allo stomaco Allora quant'è? 125.700 100 Oh, lo stomaco Oh, ma se non vuol pagare lo dice chiaro?